Sulla regione condizioni di tempo stabile in questi giorni dovute alla presenza di un anticiclone sull'Europa occidentale che porta correnti secche settentrionale anche su di noi. Pertanto avremo sia per sabato che per domenica condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, belle giornate, appena la possibilità di qualche nebbia durante la notte sulla bassa pianura e localmente in alcuni fondovalle della zona montana. Temperature miti, soprattutto di giorno, con valori massimi intorno ai 20 gradi sulla pianura e sulla costa. Lo zero termico si trova a quote molto elevate, oltre i 3.500 metri, per cui anche in montagna l'atmosfera è piuttosto mite. Tempo un po' più umido in prospettiva verso l'inizio della prossima settimana, quindi maggiore variabilità e attesa per lunedì e cielo in prevalenza nuvoloso su pianura e costa, invece per martedì dovuto all'ingresso di correnti un po' più fresche e nei bassi strati. Martedì quindi ci sarà un lieve calo della temperatura, soprattutto nei valori massimi e rientreremo nei valori normali del periodo. Buon fine settimana a tutti!